Eccoci qua, nuovo video, io sono sempre Alberto Olla e questo è un video dedicato soltanto a chi fa il freelancer che si occupa di freelancing, libero professionista e così via, quindi programmatori che fanno lavori per altri, non dipendenti per intenderci, ok? Se non rientri in questa categoria, no problem, amici come prima, chiudi questo video perché tanto non ti sarà utile, vai a guardarne qualcun altro, c'è un muscerino, dicevo vai a guardarne qualcun altro che magari ti sarà molto più utile. Detto questo, se sei rimasto qua vuol dire che effettivamente sei interessato, allora, ti preannuncio innanzitutto che io ho utilizzato questa tecnica su di me, io l'ho chiamata tecnica del ribaltamento, ma in realtà non ha un nome, l'ho chiamata io così giusto per fartela ricordare, io l'ho utilizzata su di me e mi consentiva effettivamente di aumentare i miei guadagni nel periodo in cui facevo il freelancer, ovviamente, adesso non mi serve più utilizzarla e quindi probabilmente può aiutare anche te, ok? Detto questo, iniziamo. Prima di raccontarti quella che è la tecnica, ti voglio raccontare una piccola storiella. Durante una sessione strategica con uno dei miei studenti mi ha fatto vedere l'email che effettivamente si scambiava con i potenziali clienti. Lui è un freelancer, vuole fare il freelancer e quindi effettivamente stava iniziando appunto a ricevere delle richieste. Ecco, lì ho notato un errore madornale, un errore che magari stai facendo anche tu. Essenzialmente l'errore è questo. Il cliente, anzi un potenziale cliente, ti contatta, ti chiede una sorta di preventivo, quindi ti dice guarda mi serve questo e quest'altro, quanto mi costa? E tu gli rispondi semplicemente con sì, lo posso fare, il prezzo è questo e quindi effettivamente gli fai il preventivo. Ecco, questa roba qua è sbagliata. Innanzitutto questa roba qua non va bene per una marea di punti di vista. Prima che un potenziale cliente ti contatti dovrebbe già essere educato e dovrebbe già sapere perché tu offri delle soluzioni migliori rispetto ai tuoi competitor e delle soluzioni che si adattano di più al suo caso specifico. Ma in ogni caso supponiamo che non hai un sistema, tra virgolette, di marketing che vada a educare i clienti. Non ce l'hai questa roba, vuoi però rispondere a questa persona. Cosa si dovrebbe fare in questo caso? Quello che io ti consiglio di fare è ribaltare la situazione. Cioè, di solito funziona così. Quel potenziale cliente, oltre che a te, oltre che al mio studente, ha inviato lo stesso messaggio a tanti altri professionisti perché lui non capisce le differenze. Per lui sono tutti uguali, ok? Se tu gli rispondi semplicemente con sì, lo so fare, questo è il prezzo. Che cosa accadrà mai nella mente del cliente? Si andrà a creare una classifica, in maniera inconscia anche, dove andrà a posizionare ogni singolo professionista in base al prezzo che gli ha indicato. Quindi, di solito, va a scegliere il professionista che gli chiede meno. Questo perché non è stato educato. Magari non è il professionista migliore, è semplicemente il professionista che gli fa il prezzo più basso, ok? Questo potenziale cliente qua non ha, diciamo così, le competenze per poter scegliere qual è la soluzione migliore. Ora, la tecnica del ribaltamento, diciamo così, si attiva proprio in questo momento. Al posto di rispondergli con il prezzo, tu devi fare una cosa un po' diversa. Prova ad immaginare questa situazione. Quindi abbiamo, ricapitoliamo, potenziale cliente ti contatta, ti scrive vorrei fare questo, questo e quest'altro, quanto mi costa? Tu gli rispondi, gli dici, sì, lo possiamo fare, questo è il prezzo, ok? Lui ti dice, ok, iniziamo, ecco. A questo punto che cosa accade? Tu, che sei un professionista, con tutta probabilità, gli farei una marea di domande tecniche per chiedere specifiche, per capire bene che cose effettivamente intendeva nelle sue frasi, perché ovviamente di solito quando un cliente ti chiede un lavoro, noi professionisti cerchiamo di interpretare quelle che sono le sue esigenze, però poi nel momento di dover mettere le mani in pasta, dover effettivamente scrivere i codici, fare le cose nella pratica, ci saranno dei dettagli, delle specifiche più nette, ok, più chiare, quindi effettivamente qua, in questo punto del processo, tu gli andrai a fare un sacco di domande, ok? Alla fine di tutte queste domande, quando tutti i dubbi saranno chiari per te, professionista, a quel punto inizierai effettivamente a scrivere il codice a fare il lavoro. Ora, la tecnica del ribaltamento, sì, diciamo così, consiste semplicemente nel spostare questi due step, cioè, al posto di dirgli, sì, lo posso fare, questo è il prezzo, tu questa roba qua non gliela dici, gli fai direttamente le domande come se ti avessi assegnato il lavoro, quindi lui ti chiede, voglio fare questa roba qua, questa roba qua, quanto mi costa? E a questo punto tu parti con le domande tecniche come se il lavoro te l'avesse già assegnato, quindi gli dici, ok, fantastico, come possiamo iniziare, chieriscimi questo punto, chieriscimi quest'altro punto, guarda, questo problema qua che tu mi hai segnalato si può risolvere in tanti modi diversi, lo possiamo risolvere in questo modo, ma dei pro e dei contro, lo possiamo risolvere in quest'altro modo, ma dei pro e dei contro, in quest'altro modo, in quest'altro modo ancora, io ti consiglio questo modo perché secondo me si adatta meglio al tuo caso specifico, ok, e così via. E lì fai tutte le tue domande. Alla fine di tutta questa roba qua non gli dici, guarda, il prezzo è questo. No, gli dici, tu, potenziale cliente, che budget hai e in quanto tempo vorresti realizzare tutta questa roba? Facciamo un esempio pratico. Supponiamo che lui ti dica, guarda, io ho 500 euro di budget e la voglio realizzare in due giorni. Ora, tu puoi fare una cosa molto divertente, che io facevo spessissimo, ed era questa. Gli dicevo, guarda, io per 500 euro non te la posso realizzare in due giorni perché sto già lavorando ad altri progetti. Se vuoi, te la posso realizzare per 500 euro, ma la faccio nei tempi morti, quindi tra un progetto e l'altro. Di conseguenza, te la consegno sicuramente dentro due settimane. E questa era una scelta, ma poi niente davanti a un'altra. Gli dicevo, oppure, se tu hai molta urgenza, io te la faccio in 24 ore, ovviamente dillo soltanto se effettivamente lo puoi fare, te la faccio in 24 ore, ma il prezzo non è più di 500 euro, ma è di 700 o di 1000 euro. Quindi tu gli stai dando due scelte. In ogni caso, qualsiasi sia la scelta che effettivamente lui vuole prendere, tu ci stai guadagnando. Nel primo caso, ti stai spalmando quel lavoro per più tempo. Io di solito comunque sia li facevo in maniera molto veloce i lavori, quindi magari lo finivo comunque sia in due giorni, però in ogni caso glielo consegnavo un po' più avanti. Ovviamente, se tu gli dici, guarda, te lo consegno in due settimane e lo finisci in due giorni, io glielo consegnavo magari dopo una settimana, così il cliente era ancora più contento, perché diceva, cavolo, mi aveva detto che ci volevano due settimane, invece me l'ha dato prima il cliente felice. Ovviamente non darglielo mai dopo, cioè non darglielo mai dopo la deadline, non darglielo dopo tre settimane. A quel punto il cliente si arrabbia e ha tutte le ragioni, ok? Quindi se vuoi ti tieni largo con i tempi e quindi glielo consegni prima e sei a posto, così hai un cliente felice. Considera che i clienti felici di solito tornano da te quando fai il freelancer, o almeno nel mio caso funzionava così, tornavano molto spesso a chiedermi altri lavori, altre modifiche e così via. In ogni caso ci stai guadagnando perché ti stai spalmando quel lavoro in più tempo. Io lo facevo spesso, passavo da un progetto all'altro e così via. Nell'altro caso invece tu stai andando direttamente ad aumentare quello che è il tuo fatturato, quelli che sono i tuoi guadagni in maniera diretta. Il lavoro è lo stesso, lo devi soltanto fare in meno tempo ma guadagni di più. Questo perché l'ideale è sfruttare quelle che sono le esigenze del potenziale cliente. Se il potenziale cliente ha fretta, tu usa quella fretta, digli guarda se io te lo faccio in frettissima, però costa di più. Se invece il cliente non ha fretta, no problem, spalmaglielo nel tempo, fallo in maniera comoda per te. Ok, io lo facevo sempre. L'altra cosa che ti volevo dire è che, secondo le statistiche, una determinata percentuale di persone che mi pare si agire intorno al 20% sceglie sempre la scelta che costa di più. Quindi, se tu fai questa proposta del genere, sappi che ci sarà un 20% di persone, mi pare che sia il 20% o può essere anche il 15%, in ogni caso, ti assicuro che ci sarà una determinata percentuale di persone che sceglierà la scelta più costosa per loro, perché non gliene frega niente. Io conosco moltissime persone che non hanno problemi economici, che se tu gli dai due scelte, loro scelgono sempre quella più costosa. Perché sono abituati a fare così. Quando vanno nel supermercato, devono comprare, che ne so, anche le stupidaggini, i bicchieri, comprano i bicchieri da 5€, comprano i bicchieri usegetta, intendo, tutta la roba più costosa che c'è. Loro sono tarati così, hanno questo tara mentale. E nel marketing questa leva viene sfruttata molto spesso. Infatti, se noti, nei vari prodotti c'è sempre un pacchetto che costa di più. O almeno, quasi sempre c'è. L'Apple lo fa spesso. Anzi, lo fa sempre. Detto questo, cos'altro? Bene, spero che effettivamente questa tecnica ti possa servire a guadagnare di più come freelancer. Quindi ricordati la tecnica del ribaltamento. Cioè, cerca di educare il cliente prima di dirgli effettivamente il tuo prezzo. Quindi ci parli, gli spieghi perché le tue scelte, le cose che fai tu, sono meglio per lui e così via. E poi dopo tutta sta roba qua, gli dici effettivamente qual è il prezzo. Però in ogni caso io ti consiglio di sfruttare quelle che sono le sue esigenze a tuo vantaggio. Quindi di fare anche questo split di due proposte diverse. Una nel tempo e l'altra più diluito. Detto questo, direi che possiamo finire. Non so quanto è durato questo video, ma spero sia stata una roba veloce.